Ciao ragazzi! Dopo i primi giorni passati ad esplorare Barcellona abbiamo pensato di realizzare qualcosa di particolare seguendo le tappe della giornata tipo di un catalano. Un almuerzo in un caffè locale. In Spagna la maggior parte delle persone fa due colazioni, un po' in stile Hobbit. Una la mattina presto quando si sveglia e un'altra in tarda mattinata verso le 11 che li consente poi di tirare fino all'ora di pranzo alle 14. Durante questa pausa dal lavoro i bar si affollano e i banconi vengono allestiti con piccole paste e panini con formaggio e amon, un almuerzo appunto, da accompagnare con un buon caffè. Sosta al mercato. La boccheria è il mercato alimentare più famoso della città ma i locals preferiscono fare i propri acquisti in quello di Santa Caterina ad esempio per evitare la resta di turisti. Questo è il luogo perfetto per osservare le persone nella loro quotidianità e anche per prendere piccoli souvenir davvero originali e genuini, ovviamente da mangiare. Il menù del giorno. Un tempo in Spagna tutti i ristoranti avevano l'obbligo di offrire per pranzo un menù che fosse conveniente e di qualità. Il famoso menù del dia. Oggi, sebbene questa legge non sia più in vigore, molti ristoranti continuano a portare avanti questa offerta, che in genere consiste in tre portate più una bevanda ad un prezzo di circa 10 euro. Disponibile dal lunedì al venerdì, questo è un modo eccellente per provare la cucina più autentica e genuina. È ora di sudare. Oltre a seguire una dieta sana e bilanciata, i catalani praticano anche molto sport durante la settimana. Barcellona inoltre è la città perfetta perché, avendo sia mare che montagna, offre diverse attività. Un salto alla pasticceria di Escribà. Situata sulla Rambla, la pasticceria Escribà è una delle più antiche e rinomate di Barcellona. Le vetrine sono talmente belle da far venire la collina in bocca. Crostatine, cioccolatini, paste... è ora di fare l'erenda. Tramonto ai Bunker del Carmel. Se volete godere di una delle migliori viste sulla città, i Bunker del Carmel sono il posto ideale dove andare. Situati ai piedi delle colline che circondano la città, questi bunker della guerra civile sono il posto perfetto per tutte le persone che decidono di scappare dal caos cittadino e godere di una vista a 360 gradi che si stende fino al mare. Per concludere la giornata in bellezza non ci si può far mancare un ristorantino tipico oppure un giro di tapas con gli amici. La serie di Barcellona si conclude qui, continuate a seguirci per scoprire dove andremo prossimamente. Ciao! Grazie!